Un trentenne residente nel Pinerolese di ritorno a Torino dopo una vacanza sull'isola di Zanzibar è stato fermato all'aeroporto di Caselle dalla Guardia di Finanza perché occultava all'interno del proprio bagaglio alcuni coralli del tipo scleratinia e tubiporide. L'uomo in arrivo da Parigi dove aveva fatto scalo è stato notato dai finanzieri della compagnia di Caselle Torinese mentre cercava di guadagnare frettolosamente l'uscita dallo scalo torinese. Fermato durante il controllo ha cercato più volte di convincere gli inquirenti di non trasportare nulla oltre gli effetti personali. Una volta approfondito il controllo però i finanzieri hanno rinvenuto nascosti nel bagaglio a mano del trentenne i pezzi del pregiato corallo. Una specie a rischio di estinzione è tutelata dalla Convenzione di Washington il cui scopo fondamentale è quello di garantire che lo sfruttamento commerciale internazionale sia sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo habitat. Al termine dell'intervento i finanzieri unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane in servizio allo scalo aeroportuale hanno sequestrato i coralli. Ora l'uomo rischia sanzioni sino a 15 mila euro.